Cari amici, ci incontriamo anche oggi solo per farvi rapidamente gli auguri per una buona festa di ogni istante e per darvi qualche rapidissima notizia buona di quelle notizie che servono a darci fiducia per il futuro, serenità, a costruire motivi di speranza rivolte soprattutto alle giovani generazioni. In modo particolare stiamo cercando di mettere in campo iniziative che parlino agli adolescenti, ai bambini più piccoli, che siano di aiuto alle famiglie nel rapporto fra genitori e figli in un momento che è davvero molto molto complicato, soprattutto per i più giovani. Allora, una buona notizia. Nell'Asda Napoli 1 vengono assunti complessivamente 57 psicologi, 10 vincitori di concorso, 7 per scorrimento, che prendono servizio entro dicembre 2024. Altri 40 nel gennaio 2025. Questi 57 psicologi assunti alla Napoli 1 si aggiungono a psicologi, un totale di 150 unità, che prestano servizio presso tutti i distretti sanitari della regione Campania. È un motivo davvero di orgoglio per noi. Noi siamo l'unica regione Italia che ha approvato una legge per l'impiego di psicologi nella sanità pubblica e credo che stiano dando davvero un grande aiuto alle ragazze, ai ragazzi soprattutto, e anche alle famiglie. Abbiamo integrato le risorse necessarie poi a garantire ai bambini più piccoli la pratica dell'attività sportiva. Sapete che abbiamo introdotto in Campania un voucher, un buono, di 400 euro per bambino, per la fascia di età dai 6 ai 15 anni. Diamo cioè risorse alle famiglie perché possano far fare sport ai più piccoli, scegliendo autonomamente quale sport e quale società utilizzare. È una misura davvero importante. Siamo arrivati a 88.000 richieste di voucher per attività sportiva. Dunque abbiamo dovuto integrare le risorse pubbliche per dare una risposta a decine di migliaia di bambini e bambini che vogliono fare attività sportiva. Ma è una cosa davvero molto bella, molto importante per aiutare i più piccoli a socializzare. Complessivamente abbiamo investito 35 milioni di euro su questa misura rivolta ai più piccoli. Mi pare una cosa importante di cui essere francamente orgogliosi. Abbiamo incontrato nei giorni scorsi una delegazione dei palestinesi che vivono in Italia e a proposito di bambini ci siamo impegnati a rinnovare una delibera che avevamo approvato negli anni scorsi con la quale la regione Campania si impegna a curare i bambini che provengono da paesi in guerra, non solo Medio Oriente, Ucraina, paesi nei quali i bambini sono le principali vittime di bombardamenti, di atti di barbarie, di distruzione di ospedali, mutilazioni. Bene, abbiamo colto l'occasione di questo incontro per riconfermare l'impegno ad approvare una delibera con la quale la regione Campania, con un gesto, credo, di solidarietà che merita un apprezzamento, offre la propria disponibilità ad accogliere in Campania bambini bisognosi di cure e in qualche caso bambini già oggetto di mutilazioni che vengono qui per completare un percorso di riabilitazione. Sempre per quanto riguarda la sanità, possiamo, ecco, è importante darvi anche oggi, in questa giornata di festa, notizie che ci danno ancora di più, serenità. Serenità e che confermano il raggiungimento da parte della nostra sanità di alcuni risultati di eccellenza inimmaginabili solo qualche anno fa. E su questa linea proseguiremo il nostro lavoro, vedrete che nel corso dei prossimi mesi del 2025 avremo risultati davvero unici in Italia, ma ne parleremo nelle prossime settimane. Intanto, una notizia importante, la Campania si è dotata di anticorpi monoclonari per combattere il virus respiratorio sinciziale che colpisce con affezioni respiratorie anche pesanti bambini sotto i due anni. Sapete che era stato impedito, diciamo, alle regioni, soprattutto del sud, l'uso di questi farmaci, beh, abbiamo risolto in qualche modo il problema, quindi dalla seconda settimana di novembre può partire la vaccinazione per i bambini. Vi prego di collegarvi poi con i siti della regione per avere informazioni di dettaglio o con l'ASL. Abbiamo anche dato la disponibilità a fornire una parte dei farmaci monoclonali acquistati dalla regione alla regione Calabria, che ci ha chiesto una mano perché non ha una dotazione di questi farmaci. Quindi riconfermiamo anche qui un atto di solidarietà davvero fraterna con una regione sorella della Campania ed è, come dire, un gesto credo doveroso tutto sommato, ma non scontato di aiuto e di, come dire, solidarietà nei confronti degli amici della Calabria, dei bambini della Calabria. Stranamente da qualche settimana vengono trasmessi dati che non sottolineano più le file, i problemi, no, cominciano ad accorgersi delle eccellenze della Campania. In un libro pubblicato di recente si riconosce che, per quanto riguarda le apparecchiature mediche, radioterapia e quant'altro, la regione Campania è la prima regione d'Italia per modernità ed efficienza degli apparati tecnologici. Sembra un paradosso, ma non lo è. Abbiamo recuperato ritardi storici, ma proprio perché eravamo in grande ritardo abbiamo fatto un programma di acquisto di nuove tecnologie che sono oggi le più moderne ed avanzate d'Italia. È una grande soddisfazione anche qui. Una grande soddisfazione. Vedrete che avremo un risultato veramente eccezionale per quanto riguarda le liste di attesa fra dicembre e gennaio, febbraio e l'anno prossimo. Era fra l'altro un impegno che ha assunto con il Ministro della Salute, cioè una serie di sfida collaborativa per dare una mano al programma nazionale del governo sulle liste di attesa, ma soprattutto per fare su questo piano della regione Campania la prima regione d'Italia. Già oggi, per le prestazioni urgenti, siamo fra le prime tre regioni d'Italia. Già oggi siamo la prima per i tempi di pagamento dei farmaci, per i dati registrati nel fascicolo sanitario elettronico, nessuno come la regione Campania. Sinceramente. Abbiamo appena inaugurato all'ospedale Umberto I in Nocera Inferiore, a proposito di nuove tecnologie, un robot chirurgico per interventi in laparoscopia. Utilizzeremo il robot collocato a Nocera per fare anche una formazione professionale rivolta a tutti i giovani medici dell'ASL di Salerno o di altre ASL, perché l'uso del robot chirurgico ovviamente richiede una formazione anche importante. Per l'ASL di Pozzuoli, il Santa Maria delle Grazie, abbiamo avuto finalmente, da parte dell'ente nazionale dell'aviazione civile, l'autorizzazione a far atterrare elicotteri nell'area dell'ospedale di Pozzuoli. E' una notizia importante perché questo dà serenità, tranquillità a tanti pazienti che vivono in quel territorio, l'ASL, Napoli 2, ma in modo particolare ai cittadini dell'isola di Ischia, di Procida, hanno la certezza di poter essere trasportati in caso di un problema serio in tempi immediati nelle strutture ospedaliere nelle quali possono salvarsi la vita. Una bella notizia che ovviamente ci dà ulteriori elementi di serenità. Vi dicevo delle eccellenze della Campania. Ancora in questi giorni alcune statistiche, alcuni servizi giornalistici danno notizia. Ovviamente non sempre queste notizie sono aggiornate. A volte queste classifiche si fanno sui dati magari di tre anni fa, quattro anni fa, due anni fa. Mai prima dei due anni. Quindi tenete conto sempre di questo. Bene. Registriamo anche in questo caso delle situazioni di eccellenza che vengono finalmente segnalate anche a livello nazionale. Siamo all'avanguardia in Campania per quanto riguarda l'area cardiovascolare di emodinamica nell'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno. Cardiologia ma anche ortopedia a Ruggi d'Aragona per quanto riguarda i tempi di operazioni di fratture al femore. Siamo all'avanguardia per la chirurgia della laringe all'ospedale Monaldi a Napoli. Abbiamo risultato di eccellenza anche alla clinica a Montevergine, ad Avellino. La struttura è veramente molto efficiente. Abbiamo risultati di avanguardia in Italia per l'oncologia del polmone al Moscati, al seno, al Pascale, al melanoma. A febbraio abbiamo fatto quattro interventi di trapianto al fegato all'ospedale Cardarelli in quattro giorni. Una parte dell'equip del primario Giovanni Vennarecci che è venuto fra l'altro a lavorare lì da altri ospedali al Cardarelli. E il Cardarelli è il secondo ospedale d'Italia per la trombolisi nella cura di pazienti colpiti da ictus ischemico. Potremmo continuare, potremmo continuare, ma davvero sono notizie che cominciano finalmente ad arrivare anche sulle pagine nazionali e giornali. Continueremo questo lavoro per raggiungere risultati di eccellenza. E questo serve anche a dire ai giovani medici che si apre, hanno fatto il giuramento a Ippocrate, centinaia di medici odontoiatri in questo periodo, si aprono prospettive di lavoro davvero straordinarie nella sanità pubblica campana. E possono immaginare di rimanere qui, non di andarsene all'estero, perché possono trovare serenità, tranquillità, stabilità di lavoro, ma anche un ambiente che consente di valorizzare le professionalità. Non parlo oggi, oggi è festa, ogni istante dobbiamo stare tranquilli, la legge finanziaria, il bilancio, ne parleremo nei prossimi giorni. C'è solo una cosa che dovrebbe essere, ci auguriamo, recuperata. Hanno tolto i finanziamenti, pochi per la verità, ma insomma era un segnale per la cura della ludopatia, cioè per curare soprattutto giovani, che presi dalla malattia, del gioco, le scommesse, hanno tolto queste piccole risorse e poi abbiamo l'incentivo per il gioco e la lotto. Ci auguriamo che nel dibattito parlamentare queste incongruenze siano risolte, anche perché per la ludopatia abbiamo fatto un lavoro importante, è in corso un lavoro importante in Campania, per il contrasto alla ludopatia e la cura, la cura di giovani che soprattutto hanno queste problematiche. Per quanto riguarda l'economia, anche qui, notizie che ci danno speranza. Abbiamo appena festeggiato i 75 anni di una bellissima azienda campana, Getra, produce trasformatori elettrici, sono gli impianti di dimensioni incredibili, siamo all'avanguardia in Europa per questo tipo di produzione. Mi diceva l'ingegnere Zigon, con la sua famiglia, a cui rivolgo il mio saluto e gli auguri per questo importante anniversario, 75 anni di vita dell'azienda, la quarta generazione oramai, mi diceva che in queste produzioni siamo all'avanguardia in Europa, Getra e Siemens in Germania. Non c'è altro. C'è veramente da essere orgogliosi. Su un altro piano si è dato avvio al Consorzio di tutela dei vini dell'Irpinia, che aggrega 700 produttori. Anche questa è una bella iniziativa, che serve a facilitare la commercializzazione dei prodotti, la valorizzazione dei nostri prodotti. Come sapete la Campania non è il più grande produttore di vini. Abbiamo due grandi province, Benevento in primo luogo, l'Irpinia, grandi produttori di vini di qualità. Noi dobbiamo puntare sempre alle nostre qualità, ma abbiamo dei prodotti davvero di eccellenza, di eccellenza per i bianchi e per i vini rossi. E dunque un augurio e buon lavoro al Consorzio appena costituito di tutela dei vini dell'Irpinia. Infine, lunedì scorso, la Fondazione Francesco De Santis ha premiato a Roma, ha dato dei riconoscimenti ad alcune personalità sul tema dei diritti civili. È stato un bel momento non solo di riconoscimento a persone che sono impegnate in questo campo, mi è stato chiesto anche di fare un ricordo di Francesco De Santis e ne ho approfittato per ricordare non solo la modernità di questa straordinaria figura di intellettuale e di politico della nostra regione, per ricordare che De Santis, come dire, ci ricorda che l'attività politica deve in primo luogo avere una funzione educativa, deve trasmettere valori, valori, altrimenti si riduce a nulla. E ne ho approfittato anche per ricordare che giovani intellettuali come Francesco De Santis, 70 giovani italiani, hanno dato la vita per realizzare l'unità d'Italia. Bergamo è chiamata la città dei mille perché centinaia di giovani da Bergamo non ha seguito Garibaldi per la spedizione dei mille. Intere generazioni hanno dedicato la vita al raggiungimento dell'unità del nostro paese. E ricordare Francesco De Santis significa anche ricordare che l'unità d'Italia è un bene irrinunciabile. Parliamo di autonomia, parliamo di decentramento, noi siamo all'avanguardia anche nella battaglia antiburocratica, dobbiamo modernizzare l'Italia, ma ricordiamoci della lezione, dell'esempio di vita di quelli che hanno conosciuto il carcere o hanno dato la vita per raggiungere l'unità d'Italia. Vi rinnovo, il mio augurio e buona festa di ogni istante, rivolgo un appello soprattutto agli uomini, state a casa tranquilli, riposate e a volte capita che quando si sta qualche ora in più a casa anziché riposarsi si comincia a litigare, tranquilli, approfittiamone per rilassarci, per rilassarci e non diamo fastidio eccessivo alle mogli, alle figlie, ai nostri familiari. Sto scherzando un augurio affettuoso a tutti quanti voi e alle vostre famiglie.